Ottava edizione del Festival delle Arti Multimediali, I'm on Vision a Macerata. Sì, questa è un'occasione molto importante perché quest'anno vorremmo chiudere un ciclo di sperimentazione indoor in qualche maniera e dall'anno prossimo abbiamo idea di invadere la città di questa manifestazione, quindi coinvolgere gli enti pubblici o comunque anche chi è interessato a queste attività culturali di produzione video e di videoarte e in qualche modo farlo diventare un festival urbano. Tre giorni intensivi proposte, produzioni video e riflessioni sull'arte digitale. Nella prima giornata un meeting sullo stato delle cose nell'arte digitale e nelle Marche, curato dal professor Massimo Puliani. Un meeting che tenterà di essere un osservatorio aperto, quindi in questo momento nella geografia delle Marche ci sono diversi soggetti e non solo oggetti. I soggetti sono le istituzioni, coloro che producono, coloro che fanno dell'arte digitale un mezzo quotidiano, come possono essere le emittenti televisive, come possono essere tutti i settori che verranno sempre di più a galla nel nostro modo di comunicare. Quindi parliamo sia di un fatto legato ad internet ma soprattutto ad un fatto digitale. Quindi se parliamo di digitale dobbiamo parlare anche di oggetti e gli oggetti sono le opere video. Opere video che oggi si coniugano con un settore che è sì quello cinematografico, perché non esiste cinema senza digitale, ma anche documentaristico, ma anche legato all'informazione. Ecco, il report sarà l'incontro di tutti questi soggetti con i loro oggetti per trovare una forma tra contenuto e contenitore.